Ciao a tutti amici, oggi facciamo Camping Halloween, vediamo un po' com'è la storia, se ci sono decorazioni. Eccoci, abbiamo il depot. Poi abbiamo Frankenstein, abbiamo gemi del cimiteo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. C'è una macchina. C'è un po' con il cimiteo. C'è un po' con il cimiteo. Non si dice di più lungo, non vogliamo andare fuori. Ciao a tutti. 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 Is it really Milanias?